Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi miei cari figlioli nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi inizia una nuova settimana, la seconda settimana del mese di ottobre. Oggi è lunedì 11 ed è giorno di festa. La Chiesa celebra nel rito tradizionale la solennità della madre di Dio, la teotokos, il termine greco, termine dommatico, che vuol dire genitrice di Dio. Nel calendario liturgico moderno è stato spostato al primo gennaio questo momento di festa. Invece nel calendario liturgico tradizionale, per volere del pontefice Pio XI, nel quindicesimo anniversario centenario della proclamazione del dogma, Pio XI ha stabilito che la festa venisse celebrata come oggi, 11 ottobre, e venisse celebrata nella solennità di secondo grado. Quindi oggi è giorno di festa, è festa mariana, è il più antico dogma mariano, miei cari figlioli. Anzitutto vorrei ringraziarvi per i numeri sempre gratificanti che caratterizzano il nostro palincesto. Un palincesto intenso, anche ieri sera la rubrica Il Padre risponde ha registrato numeri assolutamente inaspettati e significativi. Ve ne sono grato. Voi considerate tra sabato e domenica, che sempre è fine settimana, è weekend, è sabato sera, la catechesi sulle apparizioni mariane, la terza puntata sulla signora di tutti i popoli, ha registrato quasi 1300-1250 visualizzazioni in diretta e ieri sera siamo arrivati intorno ai 1300. Ve ne sono grato. È un incoraggiamento anche per me per andare avanti. Radio Domina vuole essere questo dono che la Madonna ha fatto, non controcorrente per forza di cose, ma in unione col Papa Benedetto XVI e questo è l'aspetto più importante. Attualmente noi siamo una piccola realtà rispetto a grossi network che però stanno in comunione con l'eresia e perciò sono alberi senza frutto, sono alberi casomai con frutti marci, con frutti purtroppo sterile, lo diciamo con dolore. Oggi tra l'altro è lunedì, vi ricordo questa sera, in questa bella festa della madre di Dio, della quale ora parleremo, vi ricordo l'appuntamento questa sera, come ogni lunedì, con la rubrica, con la preghiera del volto santo di Gesù di Manoppello, come ogni lunedì. Anche questa preghiera del lunedì registra significativi numeri e quindi vi incoraggio essere sempre presenti, annotatevelo, prendete un block notice o la vostra stessa agenda e scrivete tutti gli appuntamenti di Radio Domina da lunedì mattina intorno alle 7 fino alla domenica sera tutta la notte praticamente, che Radio Domina poi come sappiamo trasmette ogni notte la adorazione eucaristica, che è un momento di grazia, un momento molto importante. E quindi andiamo avanti con questo palincesto. Andiamo avanti, stiamo commentando il libro dell'Apocalisse, il martedì e il giovedì sera, col mio libro La sinfonia dell'agnello, che potete richiedere qualora ancora non l'aveste avuto qui alla segreteria di Radio Domina Nostra. E poi con tutti gli appuntamenti. Ieri sera dicevo alla introduzione della rubrica Il Padre risponde che ho verificato che con mia enorme gioia, senza averlo voluto prevedere, sono più gli impegni di preghiera in Radio Domina che non gli impegni di catechesi. A dire il vero oggi c'è bisogno di entrambe le frontiere, eccolo qui, il libro, la sinfonia dell'agnello, come vi dicevo, potete chiederlo qui a Radio Domina, e vi dicevo che, a dire il vero, c'è bisogno di entrambe le direttrici, lo vediamo molto bene, c'è bisogno di tanta preghiera. Veramente il rosario innerva, potremmo dire, come tessuto connettivo e vitale Radio Domina Nostra e l'opera di Dominutella e Don Bernasconi. E però poi anche la catechesi è importante, la formazione nella fede. Per me questo appuntamento della domenica sera è molto importante perché Il Padre risponde è un programma di approfondimento dottrinale non monotematico, è l'unica occasione nella quale non sono io a scegliere il tema da trattare. Voi sapete che particolarmente mi sta a cuore l'approfondimento della parola di Dio, perché il profeta Amos Dio dice darò fame della parola di Dio. Ecco, io prego il Signore che ci sia nel piccolo resto questa fame della parola di Dio. Quindi è uno dei miei impegni quello di approfondire, come state vedendo, la parola di Dio attraverso le omelie, le catechesi. Però mi piace molto la domenica sera che possiate intervenire voi per poter porre delle domande. E da parte mia, se ci pensate, ci vuole anche un certo coraggio, perché un conto sono il paio di telefonate al termine di una rubrica. Un'altra cosa è star lì per un'ora intera a rispondere a domande che possono essere, come anche ieri sera avete visto, di tutti i tipi. Da che colore della pelle aveva Gesù, quando è nato, all'esistenza dell'Igbo. Avete visto anche ieri sera, no? All'esistenza dell'Igbo. Si passa, direi, assai significativamente da tutte le, diciamo, possibili interpretazioni. Come naturalmente qualcuno scrive, dove Miriam Verde dice la messa soprattutto, proprio così. È la messa che soprattutto fa la differenza su Radio Domina, perché è l'unica messa pubblica, nel senso che viene mandata sui social in diretta, in unione con Papa Benedetto XVI, e questo fa la differenza. Bene, allora oggi è festa, è la festa della Madre di Dio. Voi sapete che in greco, vi dicevo, si dice Teotokos, Teos in greco vuol dire Dio, Tokos è generare, viene dal verbo generare, e significa quindi, diciamo, letteralmente, colei che genera Dio. È il primo titolo dommatico. Penso che saprete, perché l'abbiamo detto tante volte, la Mariologia, cioè lo studio su Maria, teologico su Maria, biblico teologico su Maria, è uno dei nostri cavalli di battaglia, come sappiamo. Voi tutti sapete che i titoli dommatici mariani sono quattro. Vogliamo ricordarli. La perpetua verginità di Maria, la maternità divina, l'immacolata concezione e la gloriosa assunzione al cielo. Non occorre qui che io ribadisca sempre che dobbiamo pregare perché si attui quanto la Madonna ha domandato in quel ciclo di apparizioni così ostacolate oggi dalla falsa chiesa bergoiana che è l'apparizione di Amsterdam dal 1945 al 1959, la signora di tutti i popoli. E lì la Madonna, in apparizioni riconosciute come vere dal vescovo ordinario del luogo di Harlem Amsterdam, la Madonna lì ha chiesto la proclamazione dell'ultimo e quinto dogma mariano che è la corredentrice, un titolo che bergoio apertamente e spudoratamente ha voluto asfaltare ritenendo che così per lui e ovviamente per il gota massonico satanista la questione è archiviata. E niente affatto archiviata, anzi più la ostacolano e più vedrete che la Madonna trionferà. Tra l'altro nelle apparizioni mariane di Amsterdam, la signora di tutti i popoli, la cui immagine a mio avviso è sorprendente ed è bellissima e teologicamente densa, la signora, voi sapete che questa immagine qui della signora di tutti i popoli dovreste averla tutti a casa perché la Madonna ha chiesto di tenerla, è un'immagine fuga a demoni anche questa, è un'immagine fuga a demoni e c'è la Madonna con le braccia aperte dietro alla croce, ecco avremo modo di approfondire anche l'immagine, ma stavo dicendo che voi sapete che la Madonna ad Amsterdam ha detto che la proclamazione del quinto dogma avrebbe procurato un tempo di pace alla Chiesa. Ora noi vediamo come va la Chiesa oggi. Ieri sera sono dovuto anche un paio di volte intervenire sulla questione di Mons. Carlo Maria Viganò, ho spiegato per la prima volta in modo chiaro come la penso, è un momento di crisi nella Chiesa, questi sono nemici che vogliono distruggere per ragioni di tipo politico, di tipo non certamente cattolico l'identità della Chiesa, ne vogliono un'altra che non sia quella che attualmente c'è, che è fondata da Gesù Cristo in una linea ininterrotta che va dall'Apostolo Pietro a Papa Benedetto XVI. La Madonna ha promesso che la proclamazione del quinto dogma mariano costituirà un tempo di pace, di trionfo per la Chiesa. Non sarà forse collegato al tema del trionfo del cuore immacolato di Maria promesso a Fatima? Io penso di sì, miei cari fioli. Il tema dell'apparizione di Amsterdam, come quello di Avola alla Madonna del Pino, a Pino Auricchi, è tutto da approfondire, perché per esempio quella di Amsterdam dove la Madonna chiede la proclamazione, già Pio XII del quinto dogma mariano, inizia ufficialmente il 25 marzo 1945, però la prima vera apparizione della Madonna a Ida Perdemann avviene il 13 ottobre 1917, quando lei non sapeva che a Fatima stava accadendo l'ultima apparizione. E volevo dire per inciso che da oggi per tre giorni seguono tre giorni mariani, perché oggi è la Madonna Madre di Dio, il titolo domatico, domani è la Madonna del Pilar, la Reigna della Hispanidad, cioè il più antico santuario mariano, quello di Saragozza, domani ne parleremo, e dopo domani il 13 ottobre, mercoledì, è la festa del Miracolo del Sole a Fatima. Dunque quindi questi quattro dogmi più l'ultimo che ha da venire, a mio avviso, stanotte ho avuto una visione, figlioli cari, non prendetemi per matto o se volete fatelo pure, insomma si sono presentati un paio di demoni notturni, non sono per niente piacevoli mentre riposi, vengono a disturbarti, ma dopo ho avuto una visione, vedevo il grande prelato però di spalle, è una cosa bellissima, si vede che per avere questo dono della visione che ho avuta, ve la volevo raccontare perché oggi è la maternità divina, dovevo prima avere questa lotta, questa battaglia spirituale contro le potenze dell'aria, perché c'è chi pensa che siano suggestioni, in realtà San Paolo nella Bibbia, e non solo lui ne parla chiaramente, che esistono gli spiriti dell'aria, quelli che di notte disturbano e tormentano anche quando sei in grazia di Dio e sei circondato di fede, però devi comunque sostenere questa battaglia e poi i monaci del deserto, fino ai nostri giorni Padre Pio, Santa Gemma Galgani, loro addirittura fisicamente, però dopo questa battaglia che ho avuta stanotte ho avuto una visione che mi ha colpito moltissimo, ma ho visto di spalle il grande prelato alla piazza del Cremlino a Mosca, e mi ha colpito moltissimo, era circondato da un paio di persone, soprattutto donne, non tantissime persone, ma un buon numero che non desse nell'occhio, e si trovava lì in qualità di pontefice clandestino, perché il grande prelato non sarà riconosciuto dalla falsa chiesa, né dalla falsa chiesa bergogliana, e tantomeno da quella che sta per prendere sempre più campo dall'altra falsa chiesa, per altri versi, viganiana, però in mezzo ci sarà colui che perpetuerà la successione petrina, perché la successione petrina non è né in Bergoglio, che è stato eletto invalidamente, e quindi è antipapa, usurpatore del trono petrino, né tantomeno da Viganò, che aspetterà che muoia Benedetto XVI per poi stabilire lui i criteri. Il vero successore sarà quello di Benedetto XVI, eletto dai romani che non si sono piegati all'idolatria imperante, e che dopo giorni di digiuno e di preghiera, speriamo il più tardi possibile, eleggeranno come avveniva nel primo millennio cristiano, del resto i cardinali non possono più farlo perché sono quasi tutti, se non tutti collusi con l'idolatria di Pachamama, anche quelli più santi come, vi dico questo Fiulicarie, anche quelli più santi come Comastri non possono eleggere un Papa, uno come Comastri quando anche avesse l'età canonica, e ce l'ha mi pare, perché è 75enne, 76enne, quindi per ancora quattro anni, fino agli 80 può entrare in conclave, non possono eleggere il Papa perché lui è complice dell'idolatria perpetrata nei giardini vaticani, altrimenti avrebbe dovuto alzare la voce, avrebbe dovuto apertamente dissociarsi, e avrebbe dovuto dire anche quando riconoscesse Bergoglio come Papa, io mi dissocio, invece è stato zitto, e questo silenzio non è obbedienza, smettetela modernisti e soprattutto tradizional sedevacantisti di rompere le scatole con questa storia e con questo disco rotto dell'obbedienza, si obbedisce a Dio prima ancora che agli uomini, e per quel che mi riguarda, lo dico a un paio di corsari che scrivono a destra e a manca, io li seguo, è inutile che diciate che Dominutella sarebbe stata una perla se avesse obbedito a Burke e a Papa Francesco, toglietevelo dalla testa, non si obbedisce a un falso Papa, io obbedisco a Papa Benedetto, non all'antipapa, mettetevelo in tese, siete tutti collusi e fate finta di non capirlo, capito? Allora questi cardinali non possono eleggere il Papa, non lo possono eleggere, perché sono tutti collusi e lo dice il codice di diritto canonico, cardinali scomunicati non possono eleggere un Papa, quindi il conclave sarà soltanto una messiscena mediatica, i media sono pressoché direi pressoché tutti dall'altra parte, nel frattempo invece aspetteremo che Benedetto XVI concluda il suo mandato Petrino, speriamo più a lungo possibile rimanga con noi perché abbiamo bisogno di lui, Santo Padre noi abbiamo ancora bisogno di voi, voi Santo Padre per noi siete la luce in questo tempo di tenebre, siete come un faro mentre stiamo su una zattere in mezzo al mare in tempesta, quindi non ci abbandonate presto e rimanete con noi, ecco questo per dire, e stavo dicendo che, stavo dicendo quindi che i cattolici di Roma eleggeranno il grande prelato, allora il grande prelato, io ho visto, ho avuto questa visione molto bella, era a Piazza del Cremlino, Piazza Rossa, la Piazza Rossa del Cremlino e proprio in diretta con i social, realizzava in quanto successore legittimo di Pietro dopo la persona di Papa Benedetto XVI, verosimilmente il Petrus Romanus, perché molti pensano che sia Benedetto XVI l'ultimo Papa, no, lui è Gloria Olive, se guardate l'elenco di Malachia, il monaco medievale verso il quale aveva grande stima San Bernardo, parla di Petrus Romanus dopo quello di Gloria Olive che è appunto Benedetto XVI, e lui andrà, il Petrus Romanus, il vicario di Cristo in terra per quanto clandestino, però sempre con la croce pettorale, l'anello, poi solo Dio saprà come tutto questo si potrà realizzare, come scrive Maria Mattei, preghiamo Dio, appunto è quel che dobbiamo fare, e io ho visto che andava alla Piazza Rossa con una semplicità estrema, del resto l'agire di Dio è quello, capito? Non ci vorrà una proclamazione di chissà quale stratosferica maniera, perché i media sono in mano alla masoneria e nel frattempo continuerà l'impostura anticristica, ma il vero successore di Pietro, perché a questo punto se ne configureranno tre, andrà avanti quello dopo Bergoglio, andrà avanti quello con Viganò e dopo Viganò, andrà avanti quello con Benedetto XVI e dopo di lui l'altro, si prepara uno scenario del tutto apocalittico e lui, e lo vedevo, che consacrava la Russia lì, a Piazza Rossa, al cuore immacolato di Maria. Ma torniamo alla festa di oggi, vi dicevo i quattro dogmi, mariani più il quinto, ecco perché mi sono un po' perduto, però penso che siano questioni importanti circa la proclamazione del quinto dogma, perché ho parlato di quello, perché penso che sarà il grande prelato a farlo, anche questo. Sarà un Papa fondamentalmente mariano, la Madonna nei suoi messaggi, che anche Don Dolindo Ruoto lo accredita, parla di un suo apostolo speciale. Credo che nelle prossime catechesi sull'Apocalisse, se non ricordo male, proprio nel settenario delle chiese, ma dovrei cercare, nelle prossime pagine del libro che dovremo affrontare, si parli proprio subito del grande prelato, quindi è un tema che riproporremo. Ma intanto i dogmi sono quattro, ve li ho detti, il più antico è quello di oggi, maternità divina. È stato proclamato a Efeso, città splendida, cosmopolita al tempo in cui è stato proclamato il dogma, nel 431. Maria è madre di Dio, che significa, Teotokos, che significa madre di Dio? Ecco, madre di Dio significa che lei, la Madonna, ha concepito virginalmente e ha partorito il figlio di Dio. Allora è nata una questione. Voi sapete che già nel III secolo c'era stato Ario che aveva negato la divinità di Cristo e il concilio di Nicea del 325 aveva detto no, Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo è Dio come il Padre e quindi omusio sto patri, cioè della stessa sostanza del Padre. Ora si presenta nel IV secolo una questione nuova, proposta da quello che oggi sarebbe un accanito modernista, e cioè si chiamava Nestorio, era patriarca di Costantinopoli. Nestorio diceva che Maria non è madre di Dio, non possiamo chiamarla con questo titolo, è un titolo mitologico, è proprio un modernista antelittera, una sorta di Casper Ravasiano, o di Ravasi Casperiano, una sorta di runner anteventum. Incredibile. Allora ci saranno sempre dentro la Chiesa questi che in nome dell'acceso cristocentrismo, di un privato di Cristo minacciato da Maria e vorranno sottrarre alla Madonna i titoli che meritano, i titoli che merita. Allora stavo dicendo questo Nestorio, questo runner Nestorio, patriarca di Costantinopoli, era preoccupato perché diceva no, questo titolo madre di Dio non lo dovete adoperare, era un titolo che circolava, non era riconosciuto automaticamente, ma questo è sempre avvenuto, è sempre prima di tutto il popolo di Dio, il sensus fidelium che poi viene accreditato a livello gerarchico, è un tema teologico importante, il sensus fidelium, cioè il popolo di Dio oggi non è più così nella stragrande maggioranza perché il popolo di Dio vive nell'errore e nell'eresia, quindi non c'è più il sensus fidelium. Ma il sensus fidelium è importante perché il popolo avverte prima, fiuta prima, una volta si diceva vox popoli, vox dei. Allora circolava tra i fedeli dell'impero romano che era entrato in un periodo di pace, di prosperità grazie a Costantino, il titolo devozionale potremmo dire di madre di Dio, Teotokos. Nestorio si arrabbia come avrebbero fatto oggi i modernisti, si arrabbia perché dice no come hanno fatto i modernisti nel postconcilio, ma no è un titolo esagerato, non va bene questo titolo perché è un titolo eccessivo, toglie il primato a Cristo, è un titolo mitologico, non è biblico, non c'è scritto, sono proprio i criteri, se notate, interessante questo, ermeneutici, poi dopo secoli ripresentati, non so se sto parlando difficile, spero di no, perché nel frattempo qui la gente chiacchiera tra se e se con il discorso di altro, vabbè comunque sia, Radio Domini anche questo, io parlo per chi mi sta ascoltando, mi sembra che i criteri di interpretazione del minimalismo mariano, del tentativo di sottrarre a Maria ciò che merita, siano sempre stati gli stessi. Oggi modernisti combattono questa battaglia come fa Bergoglio, ma Maria non vuole essere regina, ma Maria è sorella nella fede, è solo madre di Gesù. Bergoglio è una reincarnazione di Nestorio, anche in questo, non c'è dubbio che c'è un nestorianesimo condannato, come noi vedremo dalla Chiesa, che Bergoglio porta avanti quando vuole sottrarre a Maria i titoli che merita, per il timore che si torga Gesù Cristo e che lei non lo voglia. Niente di più falso, niente di più falso, i criteri sono sempre gli stessi. Qui siamo nel quarto secolo con Nestorio, ma se voi notate il galoppo modernista ad opera gli stessi criteri, che sono quelli di dire ma questi titoli dommatici sono eccessivi, non sono nella Bibbia, Maria non li vorrebbe, e Lutero anche questo. Quindi è incredibile vedere come Bergoglio incarni dentro la Chiesa, quella falsa, questo minimalismo mariano. Allora Nestorio si impone, si arrabbia anche, perché la cosa molto strana di talune figure di Chiesa è che si arrabbiano quando pensano che si esageri con la Madonna. In definitiva un pastore santo, al limite diciamo che pastoralmente, con amorevolezza, con pazienza, con saggezza, cerca di mettere ordine al limite. Invece questi qui, come fanno i modernisti oggi, come fa Bergoglio, si arrabbiano, si arrabbiano. Ce l'hanno con questo culto mariano che è quello che, come dice Vittorio Mesori, costituisce inevitabilmente l'identità cattolica. Ed allora Nestorio ingaggia una battaglia incredibile, volendo coinvolgere persino l'imperatore Teodosio II, credo che fosse, ma devo controllare, credo di sì, vabbè verificherò, credo sia Teodosio II, e lo vuole ingaggiare in questa battaglia dicendo dobbiamo far presto, Maria non è madre di Dio, non può essere madre di Dio perché Dio non ha una madre. Ma come era successo con Ario, che dicava la divinità di Cristo, è sorto il leone di Alessandria. Chi è il leone di Alessandria? Atanasio, Sant'Atanasio. Ecco, allo stesso modo esorge un altro grande padre della Chiesa che si chiama Cirillo, San Cirillo sempre di Alessandria. Nestorio era di Costantinopoli e invece Cirillo era di Alessandria. Che cosa succede? Cirillo dice il titolo di madre di Dio va bene, fanno bene i fedeli a chiamarla madre di Dio e Nestorio dice ma lei non ha concepito e generato Dio e invece San Cirillo di Alessandria dice no 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 il titolo va bene, Maria è madre di Dio, noi non esageriamo nel chiamarla madre di Dio perché lei ha concepito la natura umana di Cristo che però era unita, ipostaticamente si dice, alla natura divina. Cioè il soggetto che nasce, la persona che nasce ha la natura umana da Maria ma è divina la persona, dunque Maria ha generato il figlio di Dio e dunque è madre di Dio. Questo è in sintesi lo scontro. Nestorio vuole il titolo di Christotokos, cioè genitrice di Cristo. San Cirillo di Alessandria dice no è Teotokos, è madre di Dio perché a nascere da lei è il figlio di Dio della stessa sostanza del padre. Intervengono altri padri della chiesa, molto famosa più tardivamente l'espressione di San Giovanni Damasceno, padre della chiesa tardivo che dice che Gesù Cristo è omusio stopatri in quanto alla natura divina, cioè della stessa sostanza del padre ma omusio stomatri della stessa sostanza della madre in quanto alla natura umana. Lo scontro si fa acceso e noi oggi potremmo pensare a quello che sta accadendo nel postconcilio e mentre Nestorio, attenti bene perché i nemici della fede a qualunque stagione appartengono, sono sempre stati legati tra di loro al potere, cercano, hanno sempre avuto il sostegno del potere. Mentre Nestorio cerca l'appoggio del potere imperiale, pensate un po' deve esserci stato veramente qualcosa di demoniaco in tutto questo, per negare il titolo dommatico di Teotokos che cosa fa San Cirillo di Alessandria, patriarca esperto, intelligente, astuto, subito contatta il vescovo di Roma, il papa, il papa del tempo, il quale gli dà ragione. Il papa dà subito ragione, questo è molto importante, a San Cirillo, cioè il papa da Roma, per quanto non si parlasse il greco a Roma ma il latino, capisce che però il titolo dommatico di Teotokos, cioè genitrice di Dio, che il latino diventa Deipara, Deipara il latino. Se voi andate a Santa Maria Maggiore, che è stato ristrutturato, abbellito proprio in occasione del dogma della maternità divina, trovate scritto Deipare Dicatum Deipare Beate Virgini Marie, cioè tempio dedicato alla madre di Dio, sempre Vergine Maria. Il papa si schiera dalla parte di Cirillo, di San Cirillo, mentre l'imperatore si schiera dalla parte più o meno di Nestorio. Inizia una vera e propria contesa. Allora Nestorio gioca d'astuzia e organizza un concilio. Pensate che storie, fiori cari, bisogna che le conosciate queste cose. Guardate come finisce adesso in poche battute, vi dico come è finita. Nestorio organizza un concilio in breve tempo ad Efeso, appunto. Siamo nel 431, più o meno a fine maggio del 431. A Efeso si riuniscono i vescovi riuniti dal patriarca di Costantinopoli, che comunque era sempre una figura di rilievo. E questi stanno per definire Maria Christotokos, come i modernisti che vogliono negare a Maria, come Bergoglio. Bergoglio è Nestorio, re di vivo. Maria non vuole essere chiamata regina, le bestemmie bergogliane, di cui sono complici anche i cardinali che tacciano, non c'è dubbio, perché il silenzio qui è il silenzio complice, non è obbedienza. Obedienza a chi? Obedienza a chi? All'errore. Ma siete matti? Ma dico ma siete matti? Si obbedisce a Dio piuttosto che agli uomini. Anche Pietro è stato rimproverato da Paolo. Riunisce questi vescovi, stanno lì per lì. Guardate che storia. Proclamare che Maria non può essere chiamata Teotokos quando San Cirillo d'Alessandria arriva a Efeso e in un palazzo vicino a quello dove è riunito Nestorio con i suoi, riunisce gli altri vescovi, soprattutto quelli egiziani, occidentali, e gioca una mossa decisiva. Voleva far venire il Papa, il Papa non se la sente di venire e vengono invece i cosiddetti nunzi apostolici, cioè un paio di vescovi a nome del Papa vengono a Efeso, quindi c'è l'appoggio di Roma e dal punto di vista dommatico è decisivo. Per cui che cosa succede? Che mentre i Nestoriani stanno per tirar via il titolo Teotokos in maniera dommatica perché c'è l'appoggio dell'imperatore, Cirillo con i vescovi riuniti nell'altro palazzo il 22 giugno del 431 proclama con l'appoggio del Papa, lo ripeto, con la benedizione del Papa proclama Maria Teotokos. Ma sapete qual è la cosa sorprendente? Che nel frattempo il popolo santo di Dio che era Efeso la notte prima aveva fatto una processione, c'era la casa di Maria perché la Madonna aveva vissuto a Efeso, avevano acceso delle fiaccole e avevano cominciato una processione. La tradizione racconta che San Cirillo si affacciasse per fronteggiare Nestorio e proclamare Maria Teotokos a nome del Papa di Roma e lì i fedeli sono accorsi, il sensus fidelium, per dare ragione a Cirillo. Momenti di tensione ulteriori ve li risparmio. Vi leggo proprio la proclamazione. Madre di Dio, questa è la proclamazione, non certo perché la natura del verbo o la sua divinità avesse avuto origine dalla Santa Vergine, ma poiché nacque da lei, quello che vi ho spiegato poco fa, il santo corpo dotato di anima razionale a cui il verbo, cioè la seconda persona divina, è unito sostanzialmente. Si dice che il verbo è nato secondo la carne. Ecco, questo è un po' oggi il tema che noi celebriamo. Madre di Dio, la maternità divina, Teotokos. Se c'è una preghiera che si intitola Sutup Residium, è la più antica preghiera mariana ritrovata in Egitto nel III secolo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Mi pare molto bello che qui, e concludo, si ribadisca quanto abbiamo detto poc'anzi, è il popolo santo di Dio che ha voluto onorare Maria con questo titolo, il titolo di Madre di Dio. I vescovi guidati da San Cirillo di Alessandria con l'appoggio del Papa hanno solo dovuto riconoscere questo titolo. Io credo che lo stesso accadrà con il titolo della corredentrice. Concludo così come ho iniziato. Credo, miei cari figlioli, che ci abbiamo un Nestorio. Oggi c'è un neo-nestorianesimo modernista, antimariano, e quello capeggiato spudoratamente. Io provo proprio una forma di... detesto proprio questa cosa qui, ma abbiate pazienza con me. Io credo che c'è un neo-nestorianesimo di matrice bergoiana che stia operando come ha fatto Nestorio nel IV secolo. Lui Nestorio l'aveva fatto contro il primo dogma, quello della maternità divina. Bergoglio e la cosiddetta Santa Sede, con colpi di scena che vi ho raccontato, se volete andatela a rivedere, nella terza puntata delle apparizioni della Signora di tutti i popoli, lo stanno facendo contro il titolo dogmatico di corredentrice. È chiarissimo che Bergoglio non vuole questo titolo. È un neo-nestorianesimo antimariano, oggi molto diffuso, di matrice modernista, che aveva già i suoi rappresentanti al Concilio Vaticano II e che non riuscirono a triunfare. Loro cantarono vittoria quando non fu fatto un documento specifico su Maria. Il tema mariano fu associato a quello sulla Chiesa. In realtà è stata una grande vittoria. Se voi vedete, al Concilio Vaticano II, si parla proprio di Maria come mediatrice. C'è il partito detto tradizionalista, in definitiva, sulle cose più importanti come questo, sul dogma. Ha vinto, ha già annunciato che il dogma sarà proclamato. E quindi è il popolo che in quel caso Cirillo si è fatto forte dell'appoggio del Papa e del popolo. Il popolo è andato lì con le torce, con le lucerne, per dire che noi siamo qui, Cirillo, a dire che voi che volete proclamare questo titolo che lo state proclamando, fate bene. È giusto che sia così il senso sfidelio. Ora, per quanto Bergoglio cerchi di ostacolare il dogma della corredentrice richiesto espressamente dalla Madonna, tra l'altro, mentre quello della Matera di Davina non c'è stata una richiesta, per quanto ne sappiamo, diretta del cielo. Qui è diverso. Qui è la Madonna stessa che ha chiesto, negli anni 50, attraverso Ida Perdeman ad Armsterdam, di proclamare questo dogma perché la Chiesa avrà un tempo di pace e di prosperità. E noi vediamo quanto bisogno c'è di quello. E questa è l'ottusità, la cecità totale di questi pastori nella Chiesa. Si riuniscono per parlare di sinodalità e nel frattempo non fanno ciò che il cielo chiede. Ma intanto, nel mondo intero, io ho visto questo con i miei occhi in America Latina, ci sono petizioni che arrivano a Roma per chiedere la proclamazione del dogma. C'è un movimento ormai da anni che porta avanti questa richiesta della proclamazione del quinto dogma mariano, Maria Corredentrice. Come finirà? Beh, io vi ho detto che stanotte ho avuto la visione, dopo una battaglia, grazie a Dio, durata pochi, pochi istanti contro i spiriti dell'aria. Ho visto proprio il grande prelato di spalle, neanche tanto anziano, non era neanche tanto anziano, in buona forma, anche se col peso della responsabilità a suo malgrado. L'ho visto di spalle vestito di nero, aveva un cappotto nero, intalare, che circondato da un gruppo di persone si trovava alla piazza rossa a consacrare la Russia, come la Madonna aveva chiesto, al cuore immacolato di Maria. Ma credo anche che il grande prelato proclamerà il quinto dogma mariano. Lui sarà il papa, quindi potrà farlo. E questa proclamazione col tempo, che solo Dio conosce, potrà, solo questa proclamazione, portare alla Chiesa un tempo di pace e di prosperità. Allora oggi, che è la festa del dogma mariano, della maternità divina, miei cari figlioli, noi preghiamo perché ci sia questa preparazione orante, facciamo dei fioretti, delle rinunce se possiamo, perché ci si prepari alla proclamazione del quinto dogma mariano, quello che il cielo vuole in un modo o in un altro, anche se è ostacolato tremendamente dalle forze del male, alla fine si ottiene. Non so dove ho messo il telefono delle chiamate, non lo trovo, eccolo qui. E allora adesso potete chiamare al numero telefonico in sovraimpressione, raccomando a quelli che chiamate sempre di star calmi, per favore, lo raccomando tante volte, ma alcuni non vogliono ascoltare, lasciate spazio a chi poi non riesce mai a chiamare, ecco c'è già la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo padre, la ringrazio per tutto quello che sta facendo, grazie, grazie tanto. Chi sei? Io sono Andrea di Bergamo. Ecco Andrea. Volevo chiedere un'informazione, sulla porta del diavolo, io mi sto un po' informando su questa porta del diavolo, che è stata fatta dallo scultore Rubens. Niente, non riesco a capire, diciamo, questa porta qua, il disegno è stato, diciamo, distrutto, diciamo, dallo scultore. Poi, nel periodo è stata copiata con un calco, questa porta del diavolo. Volevo chiedere, ci sono tre statue che rappresentano fede, speranza e amore, no? Sì. E non riesco a capire come mai hanno le mani mozzate queste state qua. C'è un riferimento un po' malefico. Ma certo che c'è, questo. La ringrazio tanto. Tanta benedizione, carissimo. Grazie, grazie tanto per quello che fa. Sia lodato Gesù Cristo, santa giornata e buona festa della maternità divina. No, guardate, che sia di origine divina, scusate, non divina, satanica, esoterica, massonica, su questo non dovete avere alcun dubbio. Mi colpisce che sia inaugurato il 15 ottobre. Non credo sia per caso. È la data, tra l'altro, in cui scompare per sempre la compagnia di bandiera, che è un marchio mondiale. Andate a dire ai francesi di togliere Air France. I francesi saranno disposti a perdere la Coppa del Mondo l'anno prossimo, perché la vince l'Italia, almeno speriamo, e negli Emirati A, no, mi ricordo il paese, il Qatar, il Qatar. Saranno disposti non so a cos'altro, ma state certi che i francesi non rinunceranno mai a Air France, come gli inglesi a British Airways, o gli spagnoli a Liberia, perché è una compagnia di bandiera. Invece l'Italia deve fare la fine della Grecia, che non ha una compagnia di bandiera ufficiale. L'Italia non deve averla, perché se l'Italia ha una compagnia di bandiera, è ancora una nazione che conta. Invece l'Italia deve affossare, perché è stata consacrata. Fioli cari, se non l'avete capito, io ve l'ho detto, poi se non volete credermi, l'Italia è stata consacrata a Satana. Ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle, in tempi non sospetti. Ma io non vengo considerato, lo dicevate ieri sera. Qualcuno telefonava con un certo ormai ricordato ma perché lei queste cose le dice e nessuno le considera, le dicono gli altri e sono tutti considerati. E che cosa volete? È la sorte dei profeti. Ma vi ricordate che avevo fatto l'appello al Carinale Bagnasco, quando era presidente vescovi italiani, almeno sei anni fa, di consacrare l'Italia alla Madonna, di andare a Loreto, di andare a Pompei. I profeti ci sono sempre, non ascoltano. L'Italia è stata consacrata a Satana, ne vedremo delle belle. Questo portone, le origini storiche ve le risparmio, ma ha origini esoteriche. Secondo alcuni il portone sarebbe comparso dal nulla una notte alimentando le credenze popolari. Ora io vorrei dire il fatto che questa porta dell'inferno sia da inaugurare il 15 ottobre, data nella quale, come sappiamo, il Green Pass diventa obbligatorio. Adesso sembrerebbe che si stiano muovendo per rendere obbligatorio il vaccino. L'Italia si muove in direzione di una situazione. Quindi io credo che è una, direi, intronizzazione al Quirinale, che oggi è il palazzo del Presidente della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, ma vi ricordo che questo palazzo per secoli, mi pare fino a Pio IX, è stato il palazzo dei Papi, la Residenza dei Papi. Ecco, allora dobbiamo pregare tanto la Madonna. Noi del piccolo resto, abbiamo il microchip Mariano, abbiamo lo Sky Pass che è, come vedete, la catena e teniamo sempre con noi, carnalmente, direi, la corona del rosario. L'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Giussi da Palermo. Ecco, sia lodato Gesù Cristo, Giussi. Sia lodato Gesù Cristo, Padre. Innanzitutto un abbraccio, un abbraccio grandissimo e un grazie per tutti. Grazie. Scusami un momento, Giussi, che ho dimenticato di dire una cosa importante a tutti. Tra l'altro, l'Italia è Roma. Allora, vorrei dire brevissimamente, perché c'è Giussi in linea, l'Italia è Roma, cioè è la capitale. Roma poi è la sede di Pietro, Milano, con tutto il rispetto Firenze, Verenzia, Bari, Napoli, Palermo, Catania, Cagliari, Torino, Genova, va bene. Però Bologna. Però, 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 Roma è Roma. E a Roma c'è Pacia Mama, hai capito? C'è stato Moloch al Colosseo e ora c'è la Porta dell'Inferno. Ma più chiaro di così, figlioli cari, non lo so io. E il Cardinal Cobastri piange sulla mamma. Pronto, Giussi? Allora, ieri sera, per caso, ho visto un video di un frate su YouTube, non dico il nome, però se li facilmente posso dirlo in privato, dove parlava di Gesù che ai fine dei tempi agli eletti avrebbe dato, come dire, come un rifugio dove andare. E questo frate diceva che a lui era stato detto di andarsene in Sud America. Sono un po' curiosa. Certo, certo, lo posso capire. Intervengo per quanto posso, va bene, Giussi? Buona festa. Un abbraccio, le voglio fare. Grazie, grazie. Buona festa della maternità di Maria, divina di Maria. Dunque, sì, ho saputo di questa cosa, vi prometto che andrò a guardarla con i miei collaboratori in giornata stessa, ma i ritmi sono impressionanti. E di questo frate che dice che Dio ci offre un rifugio. Allora, io non posso, però, non voglio e non posso in questo momento essere più esplicito di quanto dico. L'America Latina. Un motivo ci sarà, ecco. L'America Latina. Un motivo ci sarà per cui io sono stato in Argentina, in Brasile, in Uruguay e sono stato a lungo in Colombia. Mi dispiace, ancora oggi ne porto le tracce delle critiche da persone a me vicine che mi stimano e poi al primo passo che faccio, che non corrisponde ai loro criteri, dubitano. E questo mi dispiace molto. Si preparino perché la missione è mondiale. Mica ci dobbiamo salvare solo noi italiani. E, attenzione, e mica ci siamo solo voi del piccolo resto in Italia. Don Minutella deve pensare anche agli altri. Anzi, dovreste incoraggiarmi. Come? Bisognerebbe capirlo. Aiutatemi. Aiutatevi ad andare a raggiungere il piccolo resto mondiale. Perché c'è, anche se i social non ne parlano, l'avete visto in Colombia? Sembrava una terra, diciamo così, anonima. Avete visto? A Medellin? Avete visto a Bogotà? Avete visto a Bucaramanga? Avete visto a Pereira? La gente viene perché c'è la gente che è in unione con Papa Benedetto XVI. E l'America Latina certamente ha una vocazione. Non fatemi dire di più, miei cari figlioli. Intelligenti bus pauca. Perché poi ci sono quelli tra di noi che, siccome sono radicati in Italia e non tutti ci si può muovere, eccetera, quando sentono parlare di rifugi a destra e a manca, mi saltano addosso se io accredito questa linea. Io non l'accredito nel senso unilateralista e non è detto che io debba andarmene dall'altra parte. Però per quello, se anche io rimango, non faccio come fanno certe anime che sembrano aperte di mente, se però le cose non corrispondono ai loro criteri, vanno giù duro. Io resto aperto all'idea che Dio stia aprendo in un'Italia maledetta, in un'Italia consacrata a Satana, Dio, scusate figlioli cari, non voglio urtare nessuno, stia dando possibilità. Eh, ma Dominutella, ma te resti in Italia? Ma c'era leo domina? Eh, ma possiamo andare? Ma che aspetti che io ti dica? Io saprei cosa fare se fossi sposato e avessi la possibilità, perché c'è anche chi non ce l'ha, la possibilità è un'altra cosa. Ma, insomma, l'Italia è una terra senza prospettiva, se non l'avete capito, miei cari figlioli. Non è che ce lo inventiamo. Una parte potrà andare, una parte dovrà rimanere. Ma certo, ve lo dico sulla mia pelle, io vi devo dire la verità, miei cari figlioli, non l'abbiate a male, perché io sono patriota quanto voi, soprattutto della Sicilia, però devo essere sincero, prima della Sicilia e poi dell'Italia. Perché la Sicilia ha una storia meravigliosa, dopo l'unità d'Italia, la Sicilia è stata arretrata, la Sicilia di Federico II. Non so se mi spiego, la Sicilia di Federico II, la Sicilia che con Napoli era il regno delle due Sicilie, è stata abbandonata per fare capitale per volontà dei francesi Torino e poi Firenze e finalmente Roma. Ad ogni modo, da Napoli in giù l'Italia era per volontà della massoneria inglese da eliminare. Comunque sì, sono altri discorsi. Allora io dico da patriota, amo la mia terra e credo che io rimarrò qui, però dico anche che io benedico quelli che hanno pensato di andarsene a costruirsi una vita altrove. Perché devono sorgere personalità all'interno del piccolo resto che contraddicono quello che io dico? Allora finisce il servizio di autorità, allora finisce la credibilità e la fiducia e così nasce l'anarchia. Se ognuno dice quello che poi pensa e insiste nel pensarlo, te non ti vuoi muovere perché dici che muori qui in Italia e muore Sansone con tutti i fristelli? Beh, va bene, ti faremo una statua d'oro, ma attento a non prendere di mira chi nel frattempo se ne va. Non stanno facendo i vigliacchi, non stanno facendo i pavidi, non stanno facendo i traditori della patria e non sono malati di mente. Stanno rispondendo a un appello che è evidente. Chi può vada via, chi può si organi, chi può, chi non può pazienza. È un tema molto molto delicato, mi fa piacere scoprire che ci siano personalità anche di chiesa come questo frate che parla dell'America Latina, che certo non è il paradiso in terra, intendiamoci, lì ci sono problemi di tipo sociale, economico, c'è la delinquenza molto diffusa, insomma malattie endemiche, non è che te ne vai dove c'è il paradiso, questo è chiaro, però l'Italia, a mio avviso, a livello globale è la peggiore situazione a livello mondiale, questo è quello che io penso. La democrazia è terminata, c'è un regime vero e proprio, però io non so nulla di questo frate, verificherò, il principio è giusto, il principio è giusto. Se uno vede che qui non può e ha possibilità e sente di poterlo fare, non è che tradisce, non tradisce affatto, vada pure e si rimane in amicizia tra quelli che vanno e quelli che restano e non è che quelli che restano sono i più fregati, no, non è così, c'è una missione per tutti, ognuno ha un suo compito, hai capito? Ognuno ha una sua, risponde a un disegno della provvidenza divina, miei cari fioli, magari è un tema che così delicato meriterà di essere più avanti approfondito. Bene, miei cari, allora giungiamo a conclusione di questa intensa mattinata, vi do appuntamento poi per la messa, oggi pomeriggio, il rosario, questa sera alle 21.15 non dimenticate il rosario del volto santo di Gesù e su tutti voi in questa festa della maternità divina invoco la santa benedizione del Signore. In nomine Patris e Fili e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.